San Pietroburgo è cupa, San Pietroburgo è spenta, mi sono congelato, mezzo alla tormenta. Alla rivoluzione, la vita è una noia, e prima il piatto di riccio, che dà un po' di gioia. E' il più bu, a più bu, ci gira qui città, e' il più bu, che si sente spistigliare. La figlia dello zare viva, io ve lo dico in esclusiva. La piccola Nascaria. Non lo raccontare. E' un dubbio, leggetta, o' e' un via. Sono Vladimir. Tutto si sa, mistero, o forse e' fantasia. Si dice che sua nonna paghera una forte somma, a chi la principessa trovera. Dimmi, andiamo, vieni con me. Acquista il mio dipinto, e' un Romanov, e' vero. Il pigiama di uno Yusopov, e' tutto intero. E' autentica pelliccia, io non vi trufferei. Varebbe una fortuna, se appartenesse a lei. Bene Dimitri, ho trovato un teatro. Tutto sta andando secondo i piani. Ora ci serve solo una ragazza. Ci pensi Vlad, basta documenti falsi, basta merce rubata. Avremo tre biglietti per andarcene. Uno per te, uno per me, e uno per Anastasia. E' un dubbio, leggenda, o' e' follia? Ma e' la piccola Anastasia che ci arricchirà. Tu vedrai che bel colpo, che strategia. Ci serve una ragazza in gamba, che la parte imparerà. Splendidi vestiti e poi pari. Immagina che dono la sua nonna ci offrirà. I due che possono farlo, sono qui. Sarò ricco, sarò ricco. Un fascia, due fascia. E la gente qualche cosa in più racconterà. Senti un po' anche il funcicino a principale. Senti un po' che si dice per le vie. Senti un po' anche il funcicino a principale. Senti un po' anche il funcicino a principale. Senti un po' ma sarà la verità. Chissà se può succedere. E' proprio da non credere. La piccola Anastasia. Evviva! Un po' più morta! Non si sa. Chissà!